ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di giochi next gen ragazzi oggi siamo qui in questo titolo che si chiama table top racing world tour che è un gioco disponibile gratuitamente sul plus di maggio ragazze come devo ancora scegliere la mia vettura sono qui nel garage e per iniziare a giocare ragazzi qui da vi danno 13.500 volete e potete scegliere la vostra vettura che avevano una specie di maggiorone quest'auto vedete poi abbiamo questa macchina qui con il radiatore da fuori abbiamo questo pulmino questo camper e infine abbiamo questa macchina da corsa ragazzi qui c'è il costo sotto e vedete 15.000 non posso comprarla 13.000 se non riesco per cento monete a comprarla quindi lo scena fra questa e questa e io ragazzi scelgo questo maggiorone che è molto figo e cazzuto e mi piace è molto tamarro a me piace per questo quindi scegliamo questa qui compra 12.250 ok compra bagrat si compriamo andiamo scegli i campionati del menu qui sotto e esplorere il mondo di ttr ma partecipa gli eventi ok ragazzi qua abbiamo molti giocatori ancora bloccato e qui abbiamo i campionati vedete ragazzi qua ci sono classi classi principiante avete ragazzi qua dobbiamo vincere la prima coppa ragazzi comunque vi sto portando questo gameplay ma in realtà vi voglio dire una cosa quindi il gameplay parla solo da sottofondo speriamo di riuscire a dirvi visto che mi devo poi concentrare anche sulla gara ragazzi mi ho voluto portare questo titolo però in realtà mi vuole dire alcune cose che riguardano il canale ragazzi dalla settimana prossima come avevo già anticipato nel blog per chi non l'aveva visto sono andasse a vedere inizio a portare non più un video a settimana ma tre video a settimana nel fatto a possa pensare alla gara ragazzi vi porterò tre video a settimana siamo partiti ragazzi subito allora andiamo ragazzi questo gioco mi è sembrato già molto molto bello vedete qua cadono praticamente tipo bombolette spray cade di tutto ragazzi io vi porterò quindi come sto dicendo tre video a settimana e i giochi da portare dopo aver un po visto il vostro gradimento di visual saranno i seguenti per quanto riguarda PES vi porterò il my club quindi ragazzi ci sarà PES online e probabilmente lo porterò il lunedì poi ogni lunedì avrete il my club di PES poi ragazzi il mercoledì porterò PIPA la carriera allenatore che ho visto che vi piace anche molto quindi PIPA offline visto che ho visto che ha buonissime visual qui ragazzi si può anche sparare quindi ragazzi non so come si faccia sparare però ah ecco con la X ragazzi avete cioè se avete qualcosa di speciale con la X potete poi bellissimo ragazzi è bellissimo questo gioco qui mi sta già piacendo fa tempo siamo eravamo prima ecco qua ragazzi appena sparato il missile vaffanculo sono io il primo vediamo un po ragazzi posizione prima giro ok ragazzi siamo nell'ultimo giro ah no è finita è finita la gara ragazzi ho vinto la gara era quella principiante quindi è normale quindi ragazzi vi stavo dicendo allora il mercoledì porterò il my club su PES quindi PES online il mercoledì la carriera allenatore su PIPA quindi PIPA offline e ragazzi il sabato vi porterò un video casual quindi può essere GTA 5 può essere la formula 1 non so ragazzi può essere qualsiasi cosa può essere un indie horror mi regolerò ragazzi su cosa portarvi ok ragazzi allora io c'è qui video video ve l'ho detto vi faccio un brevissimo di epilogo allora dalla settimana prossima porterò tre video a settimana non più una giorno il lunedì troverete PES my club alle 14 il mercoledì vi porterò la carriera di PIPA con la Fiorentina sempre alle 14 e il sabato un gioco random quindi sarà la formula 1 sarà una gara di GTA 5 un indie horror potrebbe essere black ops 3 ragazzi valerò i giochi che vi porterò il sabato ok questo è il nuovo programma sempre alle 14 anche nel sabato per quanto riguarda ragazzi il video del sabato vi darò un numero di like per poter vedere l'episodio successivo se vi porto ad esempio un episodio di in segreto vi chiederò faccio un esempio 5 like per il prossimo episodio quando avrete aggiornato questi 5 like io poi registrerò il prossimo episodio che uscirà sempre comunque di sabato la stessa cosa per GTA la stessa cosa per formula 1 quindi ragazzi sarete voi con i like a sbloccare i nuovi episodi altrimenti valerò sempre ragazzi io con questo ho concluso il video fatemi sapere anche se vi è piaciuto questo gioco qui che vi ricordo durante grattis di maggio noi ci vediamo al prossimo video qui sotto come sempre ragazzi trovate tutti i miei social video twitter instagram snapchat e telegram se non l'avete fatto ragazzi miei quando vi iscrivetevi al canale condivite il video lasciate un like commentate come vi ho già detto se avete qualcosa da dire condividetelo fate conoscere il mio canale ai vostri amici qui da un giorno dell'83 tutto ci vediamo al prossimo video ciao gamers ciao